Marco ieri mi ha scritto speravo di liberarmi dalle tecniche di active recall e spaced repetition perché mi richiedono troppe ore e io devo studiare pure la roba nuova mi richiedono troppa fatica, mi stanco a parlare e in più come se non bastasse alcune delle cose che ho studiato e provo a fare con la spaced repetition nemmeno me le ricordo e questo video forse sarà un po' controverso non perché lo voglia ma perché deve esserlo se vi state affidando troppo alle tecniche di active recall, spaced repetition e alle flashcards forse state sbagliando tutto questa forse è la prima volta in cui racconto la storia di come sono diventato ossessionato dai metodi di studio e di apprendimento e da come ci ho quasi perso la salute e se vi sta succedendo e vi siete fissati con active recall, spaced repetition e flashcard scrivetelo nei commenti questo video potrebbe risparmiarvi una bella dose di dolore per circa un anno durante la prima laurea l'ho fatto studiavo 8, 9, 10 ore al giorno a volte non dormivo abbastanza ed è stato orribile il meccanismo che mi era partito in testa era se mi sforzo di più, se studio più ore farò più active recall e spaced repetition quindi ne saprò di più all'esame ossessionato come ero dai buoni voti, pensavo che questo mi avrebbe garantito di alzare la media o comunque di andare sicuro all'esame stesso, di non avere sorprese da parte del professore e invece la sorpresa ce l'ho avuta direttamente a casa perché se per il primo esame è andato tutto bene perché il volume, la quantità degli argomenti e delle pagine a studiare non era così elevato nel secondo, terzo e quarto esame la situazione ha preso decisamente una chinna pericolosa perché ho dovuto iniziare a studiare il doppio, il triplo e sono arrivato fino a 18 ore al giorno 18 ore al giorno, studiavo anche mentre mangiavo la cosa più frustrante, brutale non è stata solo quella di vedere che gli altri magari studiavano più velocemente di me con più facilità, avevano meno paura di fallire agli esami e se la stavano vivendo pure meglio questo periodo meraviglioso che sono i primi anni di università bensì ripeto, frustrante è stato davvero capire che tutto questo non era né salutare né necessario e non solo, non è nemmeno possibile se per un esame sto studiando 10 ore al giorno e fa 6 crediti non è che per un esame di 12 crediti devo studiare 20 ore al giorno capite che nel lungo periodo è insostenibile pure se studi sabato, domenica e festivi non si può fare insomma quando l'ho capito mi è successa una buona cosa che l'ossessione che io avevo per lo studio e per i buoni voti si è trasferita all'ossessione per capire quali metodi e tecniche di studio mi avrebbero dato i risultati migliori perché era evidente che Active Recall e Spaced Repetition e Flashcard non erano giuste per me o meglio e questo è probabilmente molto diverso da quello che avete sentito dire spesso sull'apprendimento su Active Recall e Spaced Repetition e Flashcards ma se mi ascoltate capirete che ha senso pure per voi alcune tecniche funzionano bene in tre casi o se sei un genio o se c'hai poca roba da studiare oppure se hai già sviluppato delle abilità di apprendimento profondo e quindi sai già studiare e quelle tecniche di Active Recall e Spaced Repetition si innestano su queste capacità cioè funzionano perché prima hai fatto un'altra cosa questa cosa è l'elaborazione profonda qualcosa che riempie il contenitore nella nostra testa un grosso carico cognitivo in cui ci impegniamo a fare delle cose specifiche perché non tutti i processi di studio stimolano e causano l'apprendimento alla stessa maniera i processi di studio sono appunti, schemi, mappe, tecniche tutto quello che volete ma queste sono solo le azioni fisiche che dovrebbero agevolare il ricordo e se noi mentre studiamo non cerchiamo di capire tutto a fondo che non significa fare la traduzione di quello che abbiamo letto cambiando qualche parola ma cambiare le intere frasi cercare di spiegare a qualcuno quello che stiamo leggendo e se oltre allo sforzo di togliere dal libro quella roba e mettercela in testa non facciamo anche lo sforzo di applicare nella vita quotidiana quello che leggiamo sul libro fare degli esempi usare delle metafore e poi creare connessioni, collegamenti di quello che studiamo con le cose che abbiamo già studiato il processo di apprendimento va a farsi friggere e vuol dire che ci stiamo solo concentrando sui processi fisici, schemi, riassunti e tecniche active recall e spaced repetition sono molto facili da imparare e si basano sull'idea giusta che se il cervello non rivede alcune cose periodicamente se le scorda questo è vero ma il cervello si scorda le cose se non le ha elaborate a fondo come abbiamo detto poco fa a quel punto active recall e spaced repetition diventano meno utili ma non si possono mai eliminare totalmente la cosa importante che stiamo dicendo in questa puntata è che prima di fare l'active recall e la spaced repetition bisogna capire tutto a fondo bisogna fare quei tre procedimenti che abbiamo detto poco fa e allora active recall e spaced repetition funzioneranno meglio ma se facciamo solo quelle e prima abbiamo solo tentato di memorizzare ricordare a memoria andiamo incontro al fallimento e alla moltiplicazione delle ore di studio non è una sicurezza ma è molto probabile soprattutto per quanti di noi hanno poco tempo per studiare o hanno degli esami giganteschi adesso l'obiettivo di questa puntata e delle prossime puntate e farvi capire come avvengono quei procedimenti di elaborazione profonda e poi magari anche di usare active recall e spaced repetition fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie per avermi ascoltato e per partecipare a questa maratona M300 e se vi piace like, condividi, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella accanto a me altre due di queste puntate guardatele iscrivetevi al canale scrivetevi nei commenti io continuo a studiare, fare ricerca, sperimentare e creare ci vediamo qui domani grazie 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 grazie